carissimi amici carissime amiche buongiorno a tutti caso Liliana Resinovic so che ieri vi ho tagliato molto con un video lungo quindi adesso faremo un video molto più breve oggi ma significativo perché metteremo l'attenzione sulla questione che a dir di colui che dice di avere la storia d'amore erano oltre cinque anni che questo matrimonio fra la Resinovic e il Vicentin era finito non c'era più niente non c'era niente ormai erano oltre cinque anni un limbo proprio un limbo di aspettative e allora dovremmo capire da dove nasce questa cosa qui come nasce questa fantasia la genesi da dove nasce la genesi di questa fantasia noi abbiamo iniziato ascoltando ascoltando questo signore abbiamo iniziato dall'agosto 2021 è lì che c'era stato l'incontro fatto fatidico ma si dice poi le telefonate ci sono anche negli anni precedenti telefonate seppure meno intense ma non ci siamo mai persi di vista noi non ci siamo mai persi di vista quindi il rapporto è il non perdersi di vista che potrei essere anche spiegato da qualcuno che ne capisce meglio di me cosa significa non perdersi di vista non perdersi di vista che uno si vede una volta l'anno due volte l'anno tre volte l'anno quattro volte l'anno cosa è il non perdersi di vista quindi ma iniziamo da quello che è stato sempre raccontato come il fatidico incontro dell'agosto 2021 che poi viene dopo tanto tempo che viene detto perché le tombe dei nostri cari stavano vicine mia moglie mi ha ammendata l'anima di mia moglie quel famoso agosto 2021 quel famoso agosto 2021 viene smentito da lui stesso perché in precedenza l'agosto 2021 c'era 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 la storia poi venuto a furi successivamente della cantinola e della della soffitta e anche del centro di smistamento nel furgoncino al cimitero centro di smistamento centro di smistamento quindi tutto è location location di improponibili incontri d'amore e sono la chiara dimostrazione che questa storia probabilmente serviva a coprire qualche altro tipo di frequentazione serviva a coprire qualche altro tipo di frequentazione e allora ecco che questa storiella purtroppo si dilata viene tirata viene stilabbrata da ogni lato fino a che si deve descrivere questa lidiana come gongolante lei gongolava 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 in casa sua sulle sue gambe nella jacuzzi biposto fra le bollicine quelle bollicine così belle quindi si era in effetti in quella fine del 2021 perché voi dovete seguire perché voi non siete dei miscredenti ecco siete come san tommaso dovete credere che che in quella finire del 2021 si era la vigilia di un grande amore della grande felicità e questa cosa qui lo so che non la crederebbe nemmeno un bambino dell'asile ma nemmeno un bambino dell'asilo ma è bastato ripetere questa cosa tante volte tante volte ma tante volte che questa cosa è diventata una realtà per tanta gente è triste però è triste che noi italiani effettivamente siamo davvero in generale dico un popolo pronto a credere a tutto a qualsiasi cosa viene detto basta che viene ripetuto un numero sufficiente di volte e quindi però non bastava ripetere questa storia d'amore era troppo poco perché si dice si dice bisognava anche cambiare l'altra faccia della medaglia cioè il modo di far apparire questo sebastiano perché questo sebastiano non doveva essere più quello con la copertina apatico che stava lì sul divano che non se ne fregava di niente quello lì che che faceva la coppia libera ognuno andava dopo con chi voleva dove voleva fare la dolce vita insomma spiagge notizie che se ne fregavano altamente l'uno dell'altro no no non va bene non va bene così bisogna cambiare registro bisognava cambiare registro bisognava cambiare registro bisognava cambiare registro geloso geloso non più quindi questa coppia così tanto per come si permette ma come hanno potuto per tanti mesi per un anno e mezzo dire no nessuno le ha visti litigare no è una coppia perfetta no nessuno mai li ha visti litigare mai mai nessuno lui stesso lo stesso serpino intervistato in quella famosa intervista no mai detto nessuno no nessun problema con sebastiano mai 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 giuro giuro no 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 mai giuro 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 quindi eppure adesso bisogna invece dire negli ultimi tempi ma anche con vehemenza che non è vero questa cosa qui no mi siete svegliati avete capito male voi avete capito male no signori miei avete capito male signori miei avete capito male non è vero che non litigavano non è vero che andavano d'accordo non è vero che andavano una coppia libera che non erano gelosi no non avete capito e si litigavano sempre non erano più una coppia ormai ormai da oltre cinque anni proprio sfasciati completamente lei lei lanciava la fede così la fede magari anche i piatti diamoci anche i piatti e lui geloso perché lui è ma qua ma quali coltelli ma quali coltelli lui con la scusa dei coltelli la seguiva e la pedinava la pedinava la fotografava la pedinava era un matrimonio finito e qua all'improvviso questo matrimonio era finito perché 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 che l'eliana poi gli aveva confidato disse il pin ecco forse qualche giorno prima dovete credere a questa analizzazione voi dovete credere è un atto di fede e allora quindi dobbiamo credere che a un certo punto quando dell'eliana si andava a sfogare a casa di questo personaggio diceva guarda che sono oltre cinque anni che il mio matrimonio è finito non c'è nulla più non dormiamo non dormiamo nemmeno più insieme no non abbiamo rapporti non abbiamo rapporti fisici fisici non abbiamo rapporti fisici da più di cinque anni e cinque anni pensate un po' eh cinque anni e meno male che poi alla fine lei aveva trovato seppur tardivamente questo amore di 42 anni prima meno male poteva recuperare così questa questa amore e se il matrimonio e l'amore erano finiti e allora non l'avrebbe dovuto sapere solo lui ma forse l'avrebbe dovuto sapere tutti gli amici gli amici gli amici se ne sarebbero dovuti accorgere perché hanno continuato per tanto tempo a dire mai vissi litigare perché soprattutto quelli lì quelli lì dei pranzi delle cene come avevano fatto loro a non accorgersi e come avevano fatto a non accorgersi viceversa viceversa che Liliana gongolava a solo pensiero che si stava avvicinando il 20 di dicembre per poter si stava scaldando i motori per poter andare a casa di lui a casa di chi? di lui ma questi amici delle scene così delle festicciuole delle festicciuole però non lo conoscevano non lo conoscevano minimamente nessuno sapeva niente nessuno l'aveva mai visto niente è come la sorpresa nell'uovo di Pasqua però questa era una sorpresa nell'uovo di Natale la sorpresa nell'uovo di Natale niente nessuno sapeva niente il signor nessuno perfetto però però dobbiamo credere come si dice in tv che lui va lì e dice ma erano più di 5 anni che il loro matrimonio non esisteva più finito niente 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 basta finito basta ma ma allora dico ma in questi ultimi 5 anni no ma allora erano delle finzioni queste uscite questi viaggi queste pedalate questi weekend queste foto e dove stava il signor Serpin quando si andava così in giro e gli amici che cosa dicevano gli amici gli amici dei pranzi delle cene gli amici che viaggiavano pure con la coppia per tanto tempo che condividevano dove stanno dove stanno perché adesso sono costretti a cosere appresso alle fantasie e alle fantasie di di questo signore 84 anni perché allora voglio concludere insomma questo questo video più breve con vi devo far vedere una testimonianza filmata siamo nel 2019 quindi siamo due anni prima della morte di Liliana quindi ovviamente se non avevano rapporti da oltre 5 anni quindi siamo appena due anni prima e c'è una bella festa i coniugi vicentini celebrano 30 anni di vita insieme di matrimonio credo meno forse 25 ma 30 anni di vita insieme stanno insieme con tutti i loro amici contando di foto lo scambio delle fedi ma così tanto per per far finta per far finta lo scambio di fedi la promessa di amore eterno sorrisi baci balli musica dove stava Stalpino dove stava Stalpino dove stava Stalpino dove dove e quindi una festa una festa organizzata in Slovenia in un ristorante in Slovenia i soldi amici gli amici dei pranzi e delle scene ci troviamo a Branizza in un ristorante chiamato Osteria proprio nella vicina Slovenia tutti lì per una bella festa in costumi con i costumi tirolesi quelli là belli colorati dove stava Stalpino dove stava Stalpino dove chi lo conosceva allora dove stava dove stava Stalpino in quale fantasia viveva Stalpino su quale pianeta abitava all'epoca nel 2019 dove era forse un vago diciamo amico un vago amico e le erano tutte felici e sorridente vi faccio vedere poi due anni dopo passate appena due anni poi è tutto dimenticato perché perché è tutto dimenticato chi non parla chi rinnega perché per appoggiare semplicemente una ridicola storia d'amore mai esistita perché non testimoniate da niente e da nessuno e che serviva forse a nascondere un altro tipo di frequentazione un altro tipo di interessi perché l'unica cosa che esiste sono queste telefonate brevi tutte brevi 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 quindi c'era una frequentazione d'altro tipo un tipo di frequentazione certamente non d'amore che non poteva essere condiviso con gli altri siamo poco prima del tragico periodo covid e queste che adesso vediamo sono alcune foto di quella bella giornata di balli di canti di sorrisi di costumi di colori in cui Liliana e Sebastiano festeggiavano 30 anni di vita insieme eppure oggi si dice e sembra una cosa vera che erano più di 5 anni che ormai il matrimonio finito chiuso non avevano rapporti se si dormiva separati ma invece due anni prima c'era una fantastica festa con scambio delle fedi sorrisi musico ballo canto sorrisi dove stava Serpino allora dove stava dove stava non aveva ancora pastorito queste sue fantasia quindi vi saluto un abbraccio condividete il video e vi lascio a queste splendide immagini di colori di festa forse certamente d'amore con lo scambio delle fedi dove stava Serpino perché si deve credere a tutto ciò ciao amici miei guardate a Grazie a tutti. Grazie a tutti.